Benvenuti su Fair Play, sintesi della diciottesima giornata di serie a femminile. Inter-Fiorentina termina 3-1 con la vittoria dell'Inter, doppietta di Ciawinga e rete di Alborghetti. Pomigliano-Sassuolo termina 2-0 per il Sassuolo, rete di Sabatino al sessantanovesimo e Dongus all'ottantatuesimo. Sampdoria-Roma termina 1-0 per la Roma, rete di Kramzar all'ottantacinquesimo. Juventus-Farma termina 2-1, rete di Bonassea al diciassettesimo e Girelli al ventiduesimo. Como-Milan termina 4-0 per il Milan, doppietta di Piemonte, autogor di Lipman e rete di Vigilucci. La classifica finale è la seguente. Roma 48 punti, Juventus 40 punti, Inter 35 punti, Milan 34 punti, Fiorentina 34 punti, Sassuolo 17 punti, Pomigliano 14 punti, Parma 13 punti, Como 11 punti, Sampdoria 10 punti. Per oggi è tutto. Ed è tutto anche per la prima fase della serie a femminile. Continuate a seguire i nostri profili social per ottenere aggiornamenti riguardo la Pool Scudetto e la Pool Salvezza. Fair Play, storie di calcio, storie di vita.